ragazzi l'ambrenedetto con tanto di bastone indicatore siamo qui svizzera lago di lugano oggi facciamo un video confronto manutenzione svizzera italia ok allora siccome io ne ho le scatole piene di sentire sta storia delle bombe d'acqua degli allagamenti delle alluvioni ti faccio vedere iniziamo ti faccio vedere come qua in svizzera con tanto di indicatore tombino a livello ok tutto pulito tutto preciso non è che qua non piove qua ha piovuto piove tre quattro giorni piove come in italia uguale preciso piove come lombardia comprove come come in veneto piove piove come palermo piove piove di più piove tombino scolo tutto bello preciso non c'è fogliame non c'è niente cioè qua è tutto preciso tutto a pomis tombino a livello tutto preciso tutto pulito tutto a livello preciso con la manutenzione non c'è una virgola fuori posto il prato è pulito se rompono un qualcosa viene pulito i tombini sono a livelli e qui se c'è bisogno la cacchetta del cane c'è la cacchetta del cane il sacchetto del cane e ci sono i cestini che brillano e è tutto tu il guarrai il guarrai non è grigio non è marcio non fa schifo allora guarrai sono nuovi non sono non sono arrugginiti il marciapiede tutti i giorni possono passano a pulirlo non c'è una virgola fuori posto tutto preciso anche qui sente entri 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 un parcheggio qua tutto tutto a livello marciapiede tombino a livello tutto pulito non c'è una virgola non c'è potete potete venire a girare non c'è un per terra un mozzicone niente tutti i giorni viene pulito tutti i giorni viene fatta la manutenzione ma nuta manutenzione parola prevenzione manutenzione parola sconosciuta poi dopo bombe d'acqua bombe d'acqua allora raccoglitori tutto preciso qui posteggio per terra tutto ben fatto prato stracurato c'è barra che roba panchina perfetta cartelli tutti dritti tombini tutti a livello prato tagliato perfetto perfetto sembra un prato inglese siamo in un luogo pubblico è panchina e cestino che brilla tutti i tombini a livello tutti i tombini regolarmente svuotati poi piove come dio la manda anche qui a locarno l'altro giorno un tombino tracimato ogni tanto succede anche qui ma quando piove qui non è che qui la gente si alza la mattina c'è la macchina sotto c'è la macchina sott'acqua cioè io non ho mai visto qua i fiumi di acqua e qui piove piove uguale se non di più che lombardia che veneto che in altre parti d'italia perché quando piove lombardia piove in veneto qua non è che non piove qui viene giù ragazzi qui l'anno scorso quando è venuto fuori venezia fatto tre settimane che veniva giù a secchiate non c'è stato nessun allagamento nessuno non ho visto un rigagno perché tutto viene preciso pulito tutti i tombini puliti e i rigagnoli puliti gli scoli dell'acqua pulito viene fatta manutenzione costante costante quello che non c'è in italia tutto tutto pulito tutto preciso al millesimo non c'è per terra niente tutto pulito tutto preciso tutti i tombini puliti poi se in italia vogliamo dire che va tutto bene colpa degli eventi climatici va beh allora raccontiamoci questa questa cretinata ok però dopo domani mattina non piangere se non facendo manutenzione ti trovi la l'auto sott'acqua ti trovi la casa allagata e compagnia varia problema che non viene fatta manutenzione ma guardate qui la perfezione cioè ragazzi ma di che cosa vi stiamo allora che poi in svizzera va beh c'è qua tutto guarda ma guarda che roba guarda guarda che roba guarda guarda cioè ma millesimale che poi allora io dico anche qui ogni tanto trovi qualcosa che non funziona eh cioè allora allora anche qui ogni tanto trovi magari un tombino non a livello trovi un po di sporcizia trovi qualche qualcosa che non funziona ogni tanto ogni tanto trovi una strada che fa schifo magari trovi una buca vabbè bucche un po difficile non hai viste buche però vabbè magari che dopo che piove un po arriva una buca vabbè però sistemano tempo zero ogni tanto succede ogni tanto siamo a 15 chilometri linea d'aria dall'italia qua eh non è che siamo sulla luna eh non siamo in svizzera tedesca tutte le righe precise cioè non sono sbiadite viene fatto tutto regolare tutto viene fatto preciso tutte tutte le strade sono più i cartelli sono tutti dritti non c'è un cartello storto da noi ci sono cartelli spaccati storti i lampioni ci hanno tutti tutti funziona ci sono dei lampioni che giù in provincia di milano c'è un lampo 10 lampioni 5 gli manca gli manca la luce tutti piegati ma 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 robe dell'altro mondo robe non esiste le bombe d'acque esiste la mancanza di manutenzione esiste la mancanza di prevenzione guardate le gallerie guardate le gallerie l'altro giorno sono andato in val brembana minchia c'erano le gallerie erano nere la strada faceva cagare cioè passi la dogana in svizzera prima galleria scura e qui ci sono le gallerie che brillano perché perché vengono laccate col bianco vengono pulito in giro i catrarifangenti che trovate in giro per strada se andate su in alto ticino passano col pennellino a pulirlo ragazzi cioè mamma di cosa stiamo raccontando ma di cosa stiamo parlando stiamo parlando di due pianeti perché poi video confronto italia svizzera manutenzione dovrei fare la parte italiana ma cosa voglio fare la sapete benissimo come la manutenzione in italia la manutenzione è praticamente nulla e perché è tanto tanto manutenzione che gli ai frega tanto la manutenzione non porta voti c'è porta voti cioè ditemelo voi ditemelo voi ditemelo voi cazzo adesso vi spiego bene perché qui così così adesso finisco il video così ve lo spiego bene perché qui non ci sono le bombe d'acqua tutte tutte queste cose che la televisione bombe d'acqua adesso sono inventato sta roba allora allora lo vedete qui qui ok qui sotto qui sotto lo vedete questa hanno fatto la vasca da contenimento questa è il muro della vasca di contenimento qui praticamente ha fatto il muraglione da lì passa questa è la vasca di contenimento qui c'è il muro per fermare tutto tutto sassi sterpaglia che arriva giù quando piove è vuota viene regolarmente svuotata e pulita mentre al mio paesello l'hanno fatta la vasca di contenimento dopo non hanno più pulita è tutta riempita adesso praticamente tutto è piena è tutto e tutto viene buttato dentro praticamente tra cima e ragazzi questi qui potrei dirgli quelli che vuoi ma questo questi qui fanno manutenzione capito fanno manutenzione puliscono costantemente tombino qui tombino qui tombino qui non è intasato lo tirano su passano fuori vanno giù con un aspiratore puliscono 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 capito poi ve lo ripeto può succedere anche qui che quando piove come dio comanda magari succede che un tombino tracima c'è una piccola situazione ogni tanto c'è ogni tanto i ponti ogni totanni li buttano giù e li rifanno qui non cadono i ponti capito cioè ragazzi qui è tutto un altro pianeta è tutto un altro pianeta in italia non fanno la manutenzione hai capito oppure ne fanno veramente poca quando fanno i lavori ci mettono la vita vedi cormano hai capito pensavo che cambiava qualcosa ogni tanto diceva beh arriva qualcuno nuovo magari cambia non cambia niente anzi è sempre peggio sempre peggio sempre peggio sempre balle e qui è l'acqua ha piovuto tanto è arrivato a tromba no 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 manca la manutenzione perché in certi posti io sono andato c'erano i tombini che erano completamente topi quindi basta balle basta balle